Salve a tutti questo è un progetto creato con Inkscape e quando si salva i file Inkscape si salva in svg ottimizzato e il progetto poi viene inserito dentro a un file html aprendo proprio il file Inkscape in editor del testo copiando Inkscape dentro il file html e si salva a questo dipuntato questo vorrebbe essere un clone solo grafica del launchpad infatti su qualunque costante mi posiziono e si pulisce in modo che si capisce che lo sto selezionando e i pulsanti dove adesso ho messo l'icone ok in questo modo qui il launchpad può essere utilizzato per delle dirette su obs o altri programmi e fare delle dirette streaming e tipo web tv e non dove fare post produzione per inserire i vari suoni per questo video tutorial è tutto